Ciao a tutti, Dreamlike Moon Vidal, benvenuto a un nuovo episodio di Super Frida. Ci siamo lasciati la volta scorsa dopo aver visto l'amicizia tra Frida e un delfino e oggi sta andando avanti con la sua aspirazione. Più tardi vedremo anche i lavoretti che continuo a non vedere. Comunque io ho fatto off camera la seconda, sì, pietra miliare della sua aspirazione. Trova oggetti setacciando la spiaggia e arrostisci cibo alla griglia, il barbecue o il focolare praticamente accucinato a non finire. Adesso abbiamo da mangiare per un esercito. Adesso siamo alla terza pietra miliare, esplora la caverna sulla spiaggia e scopri il tesoro sepolto. È veramente facile come aspirazione, per questo che sto andando avanti anche abbastanza rapidamente da sola anche perché, cioè, questa cosa qua arrostisci cibo, cioè, non è nulla di nuovo da vedere, per cui l'ho fatto da sola. Quindi stanotte ne approfittiamo della famiglia che dorme e andiamo alla caverna sulla spiaggia. Ma intanto, vabbè, sta giocando un po' con Rusty. Basta, ti prego, Frida, con questo telefono. Andiamo, andiamo a Moapelam. Ci torniamo ancora. Ho anche scaricato e modificato un resort che voglio inserire più che altro nelle altre partite, non tanto qua, per cui non so se butterò giù questo e costruirò qua una nuova casa per Frida più avanti o se lo lascerò, ancora non lo so, tutto da scoprire ancora, da decidere più che altro. E ci andiamo da soli. Eccoci di nuovo al relitto, un'altra volta. La caverna, la caverna è... non mi ricordo mai dov'è. Comunque, ah, ecco, siamo praticamente qua. Ho scoperto che questo mosaico si costruisce, si completa, ecco, man mano che noi esploriamo la caverna, per cui... ispeziona, esplora. No, 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 dobbiamo esplorare. Scopri il tesoro e sepolto già fatto? Scusate, quando? Qual è questo tesoro e sepolto? Non me ne sono mica accorta, sapete? Da un ammiratore adorante. Apri le lettere, non mi ero accorta che fosse arrivato. Noi adoriamo il nostro fantastico idolo. Oh, grazie tesori, troppo carine. Conchiglia di strombo. Ma... Le dita di Sulani. Statua umiscana. Sapete che non ho idea di dove sia questo tesoro e quale sia, cosa sia e perché? Magari è nell'inventario dell'unità familiare. Uh, lettere rinvigorenti degli ammiratori. Un messaggio davvero premuroso da parte di un ammiratore. Frida si sente rinvigorita in vista del proprio ruolo di personaggio pubblico. Buon per te. Pietra miliare completa. E... Aspirazione completa? Non ci credo. Scusa, eh. Come hai fatto? Pozze sotterranee. Mentre attraversava a nuoto i numerosi passaggi pieni d'acqua della caverna, Frida nota qualcosa in fondo a una delle pozze meno profonde. Immergendosi per recuperare ciò che ha visto, Frida riesce a raccogliere un vecchio portafoglio. Sicura che il portafoglio non sia stato smarrito di recente, Frida ne intasca il contenuto e prosegue il cammino. Che... Fondo schiena! Con la C maiuscola! Frida! Solo a te possono capitare ste cose. No, ma... Davvero? Ah no. Non è completata. Pisolati mentre ti rilassi sul lettino... O sul lettino galleggiante. No, anche perché c'è aspirazione completata... No. Non l'ha completata. Però, dato che siamo qua... Andiamo ad esplorare di nuovo. E nebulizzare la specie invasiva. Un'altra cosa che volevo fare è andare avanti con la cosa dell'ambientalista, per cui venire qua, ripulire la spiaggia, portarci anche Melania, che è una buona lezione di vita per lei, sono sicura, e cercare di mettere un po' a posto questa... quest'isola. Prenditi cura di te, Melania tesoro. Torna a dormire anche tu Giulia, vi prego. Cos'è? Annebulizza la specie invasiva. Molto bene. Frida? Rumore strano. Frida avverte uno strano suono a riecheggiare nella caverna mentre ne esplora gli anfratti. Che è successo? Tutto bene? Mi sa di no. Seguendo i riverberi, Frida attraversa un passaggio particolarmente stretto prima che un nuovo suono raggiunga le sue orecchie. Un tonfo sorto dall'alto precede l'atterraggio di qualcosa sulla sua spalla. Fuggendo in preda al terrore per l'improvviso assalto, Frida si dirige senza esitazione verso l'ingresso della caverna e la salvezza all'esterno. Vabbè dai. Hai visto di peggio a Selva Dorada, tesoro? Perché ti fai spaventare così? Qua si sta componendo, no? Esplora di nuovo poi. Andiamo un po' veloci. È rimasta dentro direttamente. Colonia di pipistrelli. Vabbè, nulla di che. Ah, però è positivo. Habitat naturale. I pipistrelli possono sembrare piuttosto graziosi quando lui si osserva mentre dormono in grandi gruppi. Basta non svegliarli. Giusto. Comunque sono le cinque e mezza del mattino. Io tornerei a casa. Potremmo anche fare quella cosa dell'appisolarsi per conto nostro, voglio dire. Comunque prepariamo la famiglia per una nuova giornata. Poi oggi vediamo se riusciamo a portare Melania a ripulire la spiaggia. Oggi è sabato, quindi Melania non va a scuola. C'è la festività rissa di quartiere. Dovrò toglierla. Perché, cioè, non mi piace. A proposito di festività, poi apro un'altra parentesi. Scusate, ma sto facendo un sacco di cambiamenti in questo periodo nelle mie partite. Allora, dobbiamo fare arti e mestieri. Ricambiare. Buone azioni, ce ne manca una, per cui potremmo fare quello. Fai ridere qualcuno, vai a buttare i rifiuti. Perfetto. Tieniti in forma, anche questo è facile da fare, almeno qua. Avventura all'aperto. Non so se vale la raccolta rifiuti, non credo. Giovani per la scienza, possiamo farlo con questo. Allora, possiamo svolgere buone azioni. Per cui buttare i rifiuti qua, possiamo ripulire questo? Ripulisci, non so se viene contato come una buona azione. Se no, potremmo fare niente. Tramite il computer possiamo dare dei doni. Basta con questo mostro, Mel. Ti prego. Frida ha raggiunto il livello 6 di logica. Deve scattare foto di Mopelam. Prendere dei campioni marini, per cui perfetto. Eh sì, Frida, c'è un po' di puzza lì. Tu intanto, ok, diritti d'autore che man mano diminuiscono. Ancora fame hai, come fai? Ah, vedete, ha cucinato tutto praticamente stanotte. Ha variato fra 9 ore. Allora prendi una porzione. E vediamo se questo vale come buone azioni, non credo. Ma che brava, ripulisce tutto. Meno male. Non si fa scappare nulla. Chi è? Eh, no, non ci interessa. Il bimbo piange, tra un po' andiamo da lui. Dove stai andando, Mel? Ah, cioè, ok. Va bene. Qua cosa c'è? Fai dei versetti, coccola. E a questo punto non vedo l'ora che cresca il piccolino, sinceramente. Però tra due giorni dovrebbe essere il suo compleanno. Sì, lunedì. Oggi è sabato. Poi come festività ho messo semplicemente festività molto più semplici, per l'appunto. Cioè che abbiano a che fare un po' con la vita che secondo me è molto legata ai cicli della natura qua a Sulani. Per cui solstizio d'estate, equinozio d'autunno. Poi ho fatto il solstizio d'inverno. Mi manca l'equinozio di primavera, che però è già passato, per cui dovrò aspettare qualche giorno prima di poterlo inserire. Ma vabbè, si fa anche quello. Perfetto. Non ho visto se quello valeva. Allora, vediamo invece se puoi donare in beneficenza, tipo, sì. Sauroviaggi. Doniamo in beneficenza quel libro. Doniamo in beneficenza tutto quanto. Non mi ricordo quanti doveva farne, un po' comunque. E oggi, appunto, ci concentriamo un po' su Melania, su queste cose, cioè gli scout, la raccolta dei rifiuti. Qua dobbiamo andare avanti. La posta di oggi è stata consegnata, bene. Vediamo adesso l'avanzamento del distintivo. Vediamo. Prendi la posta. Vediamo che c'è di bello. Saranno le bollette. No, però, mi l'avrebbe detto. Non sono bollette, saranno reperti da autenticare. Buone azioni. Uno ce ne manca. Perfetto. Per cui dai un dono in beneficenza e diamo... Un pezzo di calcare, ma no. Criscifrutto lo tengo. Il flacone di bolle di sapone. Che sicuramente farà contento qualche bambino, che non se lo può permettere. Mi piace questa cosa, è bellissima. Che hai trovato? Frida? Vediamo. No, reperti da autenticare. Vabbè, fanno sempre comodo, eh. Ah, giusto. Dovevo controllare il... Tesoro marino. Questo di certo non lo è. Radice di cava, ecco. Che abbiamo già piantato. Tesoro marino? Ma è una cosa particolare o semplicemente sono le conchiglie rare? Perché non l'ho capita. Dove stai andando? Ah, disegnare. Brava, tesoro. Bravissima. Julian è tornato. Buongiorno, trovo oggetti setacciando la spiaggia, arrostisci cibo alla griglia, al barbecue, al focolare. Bene. Per lavoro che devi fare? Niente. Meglio così. Ha bisogno di divertirsi, per cui io direi che... Ce ne andiamo qua. Nuota con Julian. Andiamo un po' a divertirci. Mentre Melania disegna. No, ha deciso di non disegnare. Crea oggetti primaverili. O forse deve proprio disegnare. Disegna, va. Forme. Wow, che bracciate, Julian. Però Frida è più veloce di te, eh. Non ce n'è. Proprio non ce n'è. Mi spiace, ma la nostra sirena, ovviamente, è più veloce. Dove vai, Frida? Chi è che chiama? Eh, Melania, solo io, Chiara Stella. Verresti a giocare da me? Oh, tesoro. No, perché più tardi dobbiamo andare agli scout. Tra molto poco, anzi. Lascia perdere le vasche, Frida, e concentrati su Julian. Julian lascia perdere anche tu, anche se faresti bene a perdere un po' di peso. Ci sono quasi tante cose che voglio fare e non riesco mai a farle tutte. È pazzesco. Abiti, cambia abito. Ti metti questo. Perché mi piace di più l'altro. Dovrò toglierle questo qua. Oh, il raduno degli scout inizierà fra un'ora. Molto bene. E... Vediamo se riusciamo a fare qualcosa da sirena. Bacio della sirena. Oh, bene. Si è cambiata. Malbacio? Oh. Bellissimi. Il bacio di una sirena vale più di mille fichi fichi. Vabbè, magari no, eh. Non penso. Però... Lotta? Si può fare. Nell'acqua non penso. Ehm... Ma che interpreta una scena? Basta, non puoi più fare cose da sirena. Ah sì. Magari sì. O magari no. Dove stai andando? C'è il piccolo che piange. No, non puoi più fare cose da sirena. Perché? Perché l'ha appena fatto? No, ma comunque l'idratazione è al massimo. Richiede un diluvio, non mi pare il caso. Vabbè, torna... Vai qui. Vai a occuparti... ...del piccolo Aidan... ...che piange sempre. Ah, Melania. Che brava. Raccogli il distintivo. Ancora non si può. Perché? Non ce l'hai qui. Visualizza l'avanzamento. Quello delle buone azioni non ce l'hai. Cambia il pannolino. Latta. Dondola. E... Ma... L'avevo fatto? Vabbè. No, tesoro. Sei pure malata. Che succede? I bei tempi? Abbondanza dell'isola. Sensazione di benessere. Si sta malando. Vabbè, vai al raduno. Vai al raduno, tesoro. E... Che... No! Che seccatura. Esercitati a cantare, Julian. Sei ubriaco? Tu dovresti, caro mio... ...fare un po' di snorkeling. Perché non l'abbiamo mai fatto? Cioè, devi andare un po' avanti. D'altronde, il tuo lavoro è il bagnino e istruttore di immersioni. Dovresti dedicarti a un po' di queste attività. Dopodiché, ce ne andiamo a Moapelam. Così Frida può fare il suo lavoro. Julian può fare altre immersioni, volendo. E Melania può raccogliere i rifiuti. Eccoci! Julian è così felice di passare finalmente una giornata in famiglia. Melania, cosa fai? Sta giocando nella sabbia. Sì, ne ha tutte le ragioni. Allora, io devo lavorare un po'. Voi fate quello che volete. Ma io penso che andrò a fare un po' di immersione. Beh, giusto. Melania la lascia un po' giocare, intanto. E così Frida può dedicarsi al suo lavoro. Vediamo se c'è un punto... No, snorkeling. Un punto con l'acqua più profonda. Dov'è? Chi è? No, mi sa che si può fare solo snorkeling, non immersione. Vabbè, fai snorkeling. Va benissimo. Tu scatta foto. Magari no. Ma si può scattare una foto da qualche parte? Rovista. Vabbè, senti. Lo facciamo da qua. Abbiamo una macchina fotografica. Perché magari ce l'ho anche e continuo a fare foto col telefono. Sì, ne abbiamo due. Scatta una foto. No, ma che carini. Sono troppo degli amori. Basta, basta. Avete blatterato abbastanza. Oh, ha trovato una conchiglia pettine di mare, Melania. Va bene. Possiamo scattare una foto a Julian. Perché no? Da appendere. Non so se vale come foto. Sì. Amo apelam. Vale. E come se vale. Allora, ne scattiamo un'altra. A Melania. Perfetto. Resta così, tesoro. Resta così. Yes. Basta, è già finito. Non chiacchierare. Piuttosto. Vai a vedere se ci sono rifiuti in giro. Uh. Questo? Ah, sono pesci. Va bene. Potrebbe pescare, in realtà. Allora, vai a pesca. Così. Per andare avanti con gli scout. No? Vabbè. Rifiuti non ne vi... Ah, sì, eccoli. Ripulisci. Altri punti dove l'acqua è sporca. C'è schifezzo. No. In compenso c'è una pianta di ananas. Oh, è una palma. Da cocco. E basta. Altri rifiuti non ne vedo. Vabbè, tu continui a scattare foto. Ah, fatti un selfie con un ammiratore. Non era questo tipo di foto che intendevo, ma vabbè. E dato che ci siamo possiamo anche fare una rissa. Altre scelte. No, eh. Presentazione amichevole. Così facciamo rissa. Sta facendo di tutto, di tutto, tranne che lavorare. Lotta. Vai. Poi prendiamo dei campioni marini. Che tra uno e l'altro ci vuole un po'. Prendi un campione dal mare. Tu cosa stai facendo? Ti avevo detto di fare snorkeling, tesoro. Oh, ci sono i delfini. I delfini. Delfini. Chiama da te il delfino. Ah, un'altra sirena. Ucupani. Vabbè, lui. Vediamo. E guardate lei, Melania. Melania sta guardando. Melania sta vedendo che ci sono le sirene, che ci sono i delfini. Ma sto delfino arriva? No, non arriva. Non arriverà mai. Vabbè, fai snorkeling. E lei... Chiama da te il delfino. Allora, viene qua. Nuota qui. Perché lei vede che ci sono i delfini. Tesoro. Tu cosa stai facendo, Frida? Ma non nuotare... Vicino a chi? L'hai preso il campione? Sì. Poi. Magari potremmo scattare foto dall'acqua. Scatta una foto. Piantala di nuotare. Fermati. Sì che può scattare le foto dal mare. Oh, da qua è tutta un'altra angolazione. scatta una foto. Non può farsi selfie però. Peccato. Wow. Uh, una bella foto al sole che tramonta. Sì, vista così non significa niente questa foto però. Vabbè. Poi scatta di nuovo una foto. Perfetto. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi giornalieri. I pesci. Ecco sì, scattiamo una foto ai pesci. Riprendiamo anche la tipa che pesca. Perfetto. Dopodiché vediamo se può prendere altri campioni. Sì. Che è successo? Ahia, dei triti pericolosi per aver ripulito dai rifiuti. Oh, povera. Però nel frattempo il delfino se n'è andato. Chiama da te il delfino. Vediamo se arriva. Sì. Ha risposto Melania. Parla con delfino. No, ma che carini. Ovviamente ho fatto una valanga di foto. Nutri il delfino. Ma sei proprio un bel delfino. Lo sai che anche la mia mamma sa nuotare alla coda come te. Ma è bello vivere vicino a un vulcano? Accarezza? Chiedi di farti schizzare? Richiede un giochino. Riporta? Ma sai che sei quasi meglio del mio cagnolino? In realtà è una volpe Mel. Però vabbè. Fa niente. Troppo teneri. Sì, è partita un'altra valanga di foto, ovviamente. Che abilità stai sviluppando, tesoro? Motoria. Ok. Ci sta. Richiede un giochino. Basta, se n'è andato. Eh, non puoi pretendere. Curioso. I delfini provano una curiosità spontanea per le creature dotate di gambe. Va bene. Puoi richiamarlo? Chiama da te il delfino? Delfino? Vieni qua. Non ti ha dato il nome. Non può. Parla. Ma è sempre lo stesso che chiamano? Accarezza. Come si fa a non far partire la raffica di foto? Tu, Fred, hai completato quello che dovevi fare? No. Altre scelte. Vabbè, turchino non lo chiamiamo. Tanto... Prendi un campione dal mare. Tanto Melania ha già trovato il suo di delfino. Forza, su, raccogliamo un campione dal mare. Però non so se Melania mai visto che sua madre è una sirena. Sinceramente non lo so. Andiamo a ripulire un po' la spiaggia. Vediamo se c'è qualcosa da raccogliere. Setacciamento di spiagge. Cerca rifiuti insieme. Tranne... Vabbè, anche Julian potrebbe farlo, in effetti. E poi ci sono i famosi lavoretti che non riuscirò mai a fare. Adesso vediamo. Facciamo ripulire un po' la spiaggia ai nostri. Melania dov'è? Ah, ma sta giocando ancora col delfino. Che è successo, Crampo? No! Vieni subito fuori. Pizza alla diavola. Tu trovi sempre specialità culinaria, vero, Frida? Setacciamento di spiagge. Rifiuti insieme. Povera! Vieni Melania, dai. Migliorerai col tempo. Che c'è? Acqua ingoiata. Non sta andando tanto bene. Uh, Julian ha trovato le dita di Sulani. Che credo che siano qualcosa. Non so cosa. Pattuglia in cerca di pericoli? Oh, mai visto. Pattuglia in cerca di pericoli. Andiamo a ululare come lupi. No. Senti. Ci manca solo quello. Cosa stai facendo, Julian? Ma guarda se ci sono pericoli. Ma che pericoli vuoi che ci siano? L'unico pericolo qua sono i rifiuti. Ebbè, ha ragione. Setacciamento di spiagge. Cerca rifiuti insieme. Dove sei? Sono tutta bagnata. Ebbè, Melania, per forza che sei bagnata. Hai nuotato? Non puoi essere pulita. No, è troppo a disagio per farlo. Vabbè. Povera. Gli occhi di Sulani. Cioè, qua trovano... Pure qua, paparazzi. Qua trovano un intero corpo umano, secondo me. Tra gli occhi, le dita. Sì, andiamo. Andiamo. Scaviamo l'ultimo. E poi andiamo a casa. Perché sono abbastanza distrutti. Sì, vabbè. Ciao. Il cuore di Sulani. Ve l'ho detto. Stanno trovando un intero corpo umano. E tra un po' avremo lo scheletrino in casa. Sapete come nella raccolta a uscite, no? Per creare il corpo umano. Uguale. Ok, il tempo a nostra disposizione. In realtà è finito, però davvero io volevo cercare un lavoretto. Non si può. Allora, niente. Lo faremo la prossima volta. Cercherò magari off camera di farlo anche. Perché magari può annoiare qualcuno. Più che altro volevo capire se sono attivi alcuni o no. Magari non c'è nulla di interessante da vedere. Per cui, alla fine della fiera, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. A me è piaciuto da matti portarli in giro a muapelam. Mi sono divertita davvero un sacco. Quindi se anche per voi è così mettete un mi piace, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie. Se vi sta piacendo come sta proseguendo la quarta stagione. Iscrivetevi se siete nuovi per continuare a seguirmi. Tra poco sarà il compleanno di Aidan, per cui un motivo in più per seguirmi. Julian, non mangiare più questa roba. Vai a dormire. E vi ricordo che nella descrizione del video trovate sempre tutte le playlist di tutte le mie serie. Trovate anche i link ai social e ai canali dei miei amici youtubers che vi invito a seguire. In questo periodo metterò anche il link diretto ai loro canali. Guarda il canale comico. A fine video. Per cui potete iscrivervi non solo al mio canale, ma anche a loro, semplicemente selezionando la miniatura del canale. Per cui, detto questo, io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti!